Ecco, dopo un po' di strada tortuosa per arrivare qui, siamo arrivati al castello Dalverne. E quindi si dice, molte sono le leggende che vedono figure a girarsi all'interno di questo castello e anche fuori. E qui non c'è nulla, tu puoi riprendere pure? Sì, sì, non c'è nulla. Io non vedo l'ora proprio di girare il castello di notte. Tre, la rivede. Io non ho. Un tre non è proprio un bel numero. No, non è bello per niente. No, non è bello per niente.